Ciao a tutti, per chi ancora non mi conosce mi presento, sono Marco del negozio Passport. Prima di tutto ragazzi vi invito a iscrivervi al nostro canale YouTube e ad attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle nostre novità. Vi invito anche a seguirci sui canali social Instagram e Facebook. Se ti dico stabile, leggera e ammortizzata, a cosa stai pensando? Dai che lo vediamo assieme! Ebbene sì, stiamo parlando della nuovissima Saucony Ride 15. Qui vi presentiamo i primi due colori che ci sono arrivati in negozio, oggi ce ne arriveranno, ma adesso andiamo nel dettaglio e non perdiamoci in chiacchiere. Parliamo di una calzatura con appoggio neutro, secondo la classica categorizzazione sarebbe una scarpa A3 massimo ammortizzamento, anche se apro e chiudo parentesi, ultimamente questo tipo di classificazione sta diventando un po' desueto, per tanti motivi che non sto qui a spiegarvi oggi, ma che mai lo approfondiremo in un altro video. Dicevamo calzatura con appoggio neutro, una scarpa Ride 15, molto protettiva ed ammortizzata. Iniziamo a parlare, a dire due dati tecnici della Tomaya. Abbiamo una Tomaya realizzata in mesh monofilo, in questo caso la Tomaya è stata completamente cambiata rispetto alla versione precedente, risulta essere più leggera il tatto e più avvolgente attorno al piede, sia sulla parte dell'avampiede, ma anche sulla parte del mesopiede e sulla parte del tallone. Per quanto riguarda il tallone, abbiamo un tallone con un'imbottitura di media consistenza, l'altezza è abbastanza alta sulla parte di contenimento del tendine, questo per dare ottimo contenimento appunto del tendine e ottima protezione in fase di alloggio del tallone stesso. La lacciatura è composta da 5 fori passalancio con l'aggiunta di una fettuccia posizionata nella zona del collo del piede che serve ad ottimizzare ulteriormente la possibilità di stringere i lacci e quindi trovare la calzata e il punto di chiusura perfetto per ciascun runner. Un piccolo dettaglio che va ad arricchire questa scarpa, sempre inerente alla tomaia, è l'utilizzo del logo con questa soluzione termoplastica che serve sia a dare gran visibilità ovviamente al logo Soconi, però serve a dare struttura e miglior contenimento al piede. Infatti fin dalla prima calzata si sente una scarpa precisa sul piede che veste molto bene sia sull'avampiede sia sulla parte del collo del piede appunto, nonostante la tomaia abbia questa sensazione di estrema leggerezza. Un piccolo appunto, abbiamo provato a calzare questa nuova versione rispetto alla versione precedente e almeno per quanto riguarda la mia personale calzata indosso assolutamente lo stesso numero. Passiamo ora a quello che è il cuore della scarpa, vale a dire l'intersuola, ma prima due dati tecnici. Parliamo di una calzatura che ha un drop di 8 mm e un peso di 249 grammi nella versione maschile e nella versione femminile invece parliamo di una scalzatura che ha sempre drop 8 mm ed un peso di soli 221 grammi. L'intersuola è completamente realizzata in materiale power run, si tratta di una mescola che ha studiato Soconi che serve a dare ottima protezione, ottima anche stabilità e un gran rebound, cioè una buona elasticità in fase di spinta. Al di là del materiale i tecnici Soconi su questa versione Ride 15 si sono concentrati sulla costruzione e le geometrie costruttive della scarpa. Infatti abbiamo una calzatura dove l'intersuola è leggermente più alta rispetto alla versione precedente, quindi una altezza assoluta appunto un po' più alta. Allo stesso tempo però l'intersuola è stata leggermente scavata all'interno della zona plantare per far sì che il piede abbia un ottimo contenimento e un'ottima stabilità e devo dirgli la verità che questa stabilità si percepisce assolutamente. Appena si mette al piede si sente una calzatura leggermente più alta ma allo stesso tempo il piede all'interno di questa scarpa risulta essere stabile e molto ben contenuto. L'altezza complessiva dell'intersuola si percepisce sia a livello del tallone ma soprattutto sulla parte anche dell'avampiede. Sulla zona infatti dei metatarsi si percepisce una zona di vuoto dei metatarsi verso l'avampiede appunto. Questa sensazione appena si calza forse è un po' strana però è una soluzione voluta che segue la tecnologia costruttiva che si chiama speed roll. Vale a dire che questa tipologia di calzatura serve a far sì che la rullata sia una rullata facile, progressiva ma soprattutto molto fluida. Infine un cenno anche al battistrada. Come possiamo notare il battistrada è ridotto tra virgolette ai minimi termini nel senso che è posizionato con l'utilizzo di una gomma ad altra resistenza contro l'usura sui punti più nevralgici della scarpa. Vale a dire sulla zona di primo impatto tallonare, sulla zona del mesopiede e dell'avampiede. Tutta la parte bianca è senza gomma anti abrasione ma questo serve per far sì che la scarpa abbia un peso più contenuto. A chi possiamo consigliare Saucony Ride 15? È una calzatura come detto molto protettiva, leggera e stabile. Questo fa sì che per le sue caratteristiche costruttive si possa adattare sia a podisti che cercano una calzatura performante sia a podisti che invece cercano una calzatura prevalentemente ammortizzata. Nel primo caso i podisti più leggeri e performanti apprezzeranno questa calzatura per la leggerezza 249 grammi dicevamo prima e 221 nella versione femminile da utilizzarsi come scarpa d'allenamento su qualunque distanza. Si possono correre tranquillamente ritmi anche più sostenuti quindi sotto i 4,30 perché lo speed roll ti fa avere una rullata facile e molto veloce, rapida. Il passaggio tacco punta quasi non te ne accorgi. Invece per i podisti un po' più pesanti sarà apprezzata come scarpa sempre leggera ma allo stesso tempo per la stabilità e contenimento del piede. Ovviamente sui ritmi un po' più lenti, sopra i 5 km, magari non è la scarpa che dà il meglio di sé, però il giusto compromesso fra reattività, leggerezza e facilità di rullata fa sì che anche chi va tra virgolette un po' più piano possa apprezzare una scarpa che aiuta a correre e aiuta ad avere una falcata e una rullata molto naturale. Il passo risulta essere veramente fluido. Un cenno anche per chi cammina perché è una calzatura che può essere apprezzata da chi vuole andare a camminare principalmente su asfalto o un po' strade bianche. Dicevo apprezzata perché è una scarpa che sui ritmi un po' più sostenuti, quindi la camminata veloce diciamo, è una calzatura appunto che ti dà un buon feeling, buonissime sensazioni, veramente una scarpa che mi sentirei di consigliare anche per i per i camminatori che che hanno voglia di provare una scarpa leggera ma allo stesso tempo protettiva. E per chiudere il video vorrei fare una piccola, un piccolo confronto tra Ride 15 e la sorella precedente Ride 14, proprio una cosa in sintesi. Primo la Tomaya, la Tomaya è stata cambiata nel mesh, nella versione 15 abbiamo una tramatura con una tramatura appunto un po' più larga che però come si diceva durante il video questo non fa perdere in contenimento del piede. L'altezza complessiva del tallone è rimasta circa la stessa, la cosa importante è il cambiamento dell'altezza complessiva della suola che su Ride 15 rispetto alla versione 14 risulta essere leggermente più alta. Questo però non comporta instabilità di appoggio, anzi la scarpa risulta essere comunque molto stabile perché l'intersuola stessa risulta essere leggermente scavata all'interno per contenere perfettamente il piede. Non ci sono grosse differenze invece per quanto riguarda la tipologia di intersuola perché abbiamo sempre il materiale Power Run. La differenza, ultima differenza che notiamo invece, è nel battistrada. Abbiamo un battistrada più ridotto ai minimi termini nella versione 15, un po' più corposo nella versione 14. Spero ragazzi che questo video vi sia piaciuto ma soprattutto vi torni utile nelle prossime vostre scelte. Vi ricordo ancora una volta di iscrivervi al nostro canale YouTube, vi ricordo ancora che se avete dubbi o domande i commenti sono sempre a vostra disposizione, risponderemo in maniera speriamo esaustiva e molto veloce e come sempre mi invito a venirci a trovare nei nostri negozi a Busche o a Signoressa e se abitate lontano e avete la voglia di acquistarle online, perché no? Anche nel nostro sito www.passport.it Ciao!